Il primo paziente arriva nella tarda mattinata, è positivo al covid, ma non può stare a casa dove vive il resto della famiglia. Per questo passerà qui il periodo di isolamento. Siamo a Roma, in uno dei 15 covid hotel del Lazio, un albergo 4 stelle trasformato in presidio sanitario. 150 stanze, una novantina quelle occupate. C'è un ricco turnover di pazienti, perché comunque in poche settimane sono stati gestiti quasi 250 pazienti, neanche un mese di attività. Entrano mediamente 10, ne escono altre tanti, sciogliendo l'isolamento fiduciario. Così, in tempo di pandemia, nella hall dell'albergo si vedono infermieri con la tuta antivirus e il ristorante diventa un centro d'ascolto. Quindi si senta tranquillo che da questo punto di vista è in isolamento, però ci siamo, ci siamo, pure se non ci vede. La sala conferenza invece è trasformata in centrale operativa, dove i medici monitorano i pazienti telefonicamente. Anche noi parliamo con Valentina, infermiera di 27 anni. Prima di tutto come stai? Io sto bene, dai, posso dire che stai abbastanza bene adesso. Uscita da qui tornerai in ospedale? Tornerò sì, subito in servizio. Non siamo in pochi, a dire la verità, di aver contratto il virus, per cui serve anche una mano in più ai colleghi.